Quando veramente c'è tanta stima, tutto è più bello. Sono stata molto felice di aver così avuto il privilegio di fare questo battesimo con te di un libro molto bello. Tu non lo fai vedere, lo faccio vedere io che c'è. Grande, grande la dell'Iconi, immensa. Immensa, immensa. Lo devo al fatto che il primo libro che si occupa di cinema e giornalismo è che è una piccola Bibbia, è il Mereghetti del cinema e giornalismo, va per gli appassionati la diciamo così. Io lo so che vorresti andare a casa a festeggiare, in realtà abbiamo un'altra ora di programma. Posso anche alzarmi dalla radio e andarmene soddisfatto. Ma per me che questo libro avrà lunga vita perché secondo me si presta veramente anche a tante letture, tante analisi, a parlare del nostro cinema e giornalismo che ha veramente dei film eccezionali, ma anche di quelli internazionali che invece ci fanno vedere un giornalismo forse un po' glamour che non c'è più. È vero. Laura Di Ricogli, grazie per questa partecipazione preziosissima. Grazie a voi. Ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao Laura, grazie. Grazie a tutti.